Abbiamo finalmente una diabetologia all'altezza con un'accoglienza dell'utenza che insomma sia a livello alberghiero, che non parlo dell'aspetto professionale che insomma era già altissimo, finalmente anche il profilo alberghiero è di livello. Si sono ultimati i lavori anche sull'adiacente centro trasfusionale, si aspetta finalmente che si riesca a restituirlo alla città con la formula della televalidazione. Abbiamo finalmente l'oncologia unità operativa autonoma, dipartimentale e ci auguriamo che l'ASL riesca nel più breve tempo possibile a farlo decollare come progetto. Ha le carte in regola, pronte per farlo partire e deve diventare una priorità. Quello che oggi mi sono permesso di ricordare al dottor Quintavalle è che il grande problema di questo ospedale sono i posti letto. Noi siamo in una delle ASL, credo che sia in assoluto la prima. Anche il rappresentante della regione Lazio presente oggi, naturalmente Marco Vincenzi. Il presidente della Commissione Sanità, il problema gigantesco di questa ASL è che ha l'offerta di posti letto più bassa in assoluto l'Italia, siamo a 0,8 posti letto per mille. L'ultima programmazione strategica regionale ha elargito solo al San Paolo sulla carta altri 37 posti letto. Immaginate il pronto soccorso che lavora con 37 posti letto in più, vuol dire che nonno che arriva in pronto soccorso non rimane 3-4 giorni in barella perché non si sa dove metterlo. Quei 37 posti letto dalla carta devono diventare realtà. Non è facile, mi rendo conto delle tante difficoltà, ma sto spingendo, sto pungolando al dottor Quintavalle con tutta una serie di proposte un po' più smart che consentano di ottimizzare veramente le risorse per dare immediatamente 8 letti chirurgici sfruttando il vecchio reparto di chirurgia vascolare e 10 letti medici realizzando nel più breve tempo possibile la breve osservazione infermieristica sarebbero già 18 letti immediatamente fruibili, vuol dire aumentare l'offerta del 20%. Si cambia veramente tanto, poi è ovvio che sono tante anche le altre cose che si possono ottimizzare, ma questa è decisamente una volta che la Regione ci ha dato i letti, non aprirli è imperdonabile. Grazie a tutti.